Ciao ragazzi, buongiorno, buona domenica Buon fine domenica Ragazzi, io non faccio mai video, come voi ben sapete sugli altri squadri però questa volta volevo fare questo piccolo video perché ieri sera ho visto lo schifo più schifo che si poteva vedere da quando è subentrata la bar parlo della partita di Lazio-Fiorentina allora la Lazio a parte che il quindicesimo rigore che gli danno non mi interessa non me ne frega niente parlo dello specifico io voglio sapere come si fa come si fa a dare un rigore del genere con la VAR spiegatemi come si fa allora d'ora in avanti d'ora in avanti il prossimo che sento lamentarsi di una partita della Juve di un rigore di espulsione due espulsioni che c'erano per i giocatori della Lazio un rigore non dato alla Fiorentina ma andatevene a fare in culo guai 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 al prossimo che si lamenta ieri si è visto lo schifo più schifo che più schifo non esiste al rigore di Ronaldo Iuliano ma quella era una merda in confronto oh perché non ti lamenti adesso commisso di merda ma che cazzo fai non è niente commisso non c'è niente da dire adesso hai protestato sul nulla per Juventus Fiorentina sul nulla la cosa ma io dico ma non vi vergognate ma non vi fate schifo da soli non vi fate schifo da soli che poi ci può pure stare ma è tutto l'insieme come viene lì c'erano due espulsioni e un rigore inventato inventato non l'ha preso prima l'ha preso dopo ha toccato prima la palla ci può stare non ci può stare no un rigore inventato un'espulsione soprattutto quella gambatesa sulla tibia una cosa vergognosa una cosa da vergogna ma che cazzo fate è nessun dirigente della Fiorentina che si lamenta o che alza la voce nessun dirigente di altre squadre che alza la voce su queste cose qua lo Tito ha voluto partire con i campionati nella maniera più assoluta perché lui è convinto che vince lo Scudetto lo Tito tu sei lo schifo più schifo che esiste da quando mi ricordo il mondo del calcio Mogi in confronto a te era un santo un santo San Mogi capito se Mogi l'hanno radiato a te doi temerci la fucilazione meriti ma che cazzo dite fate schifo una vergogna vergognatevi schifosi vergognatevi vergognatevi e non ce l'ho né con i tifosi all'azzo né con i giocatori non mi interessa sono cose che nel calcio possono succedere ma con la VAR a quel livello lì vi siete lamentati sulla Juventus per cose inesistenti la VAR la VAR la VAR ma che cazzo dite ma che vergogna è questa questa è una vergogna totale vergogna totale andate a fare il culo e non lamentatevi più dovete stare muti muti ciao ragazzi ci vediamo alla prossima video piccolo ma sono incazzato ma non perché la Lancia ha preso i tre punti perché per molto ma per molto ma per molto ma per molto meno alla Juventus dicono l'altro rubate di qua e di là ma va andate a fare in culo ecco cosa penso ciao ci vediamo alla prossima